Dopodomani, giovedì 20 luglio, qui nel Teatro Politeama, perfettamente refrigerato, arriva a grande richiesta Goran Bregovic, uno degli artisti più amati d'Europa, con la sua orchestra, la Funeral Band, composta da ben dieci elementi e insieme proporranno il nuovo tour di Bregovic che sta riscuotendo tantissimo successo in tutta Europa. Sarà l'unica data prevista per la Calabria. Chi non è pazzo non è normale e già dal titolo si evince l'esplosione di divertimento, di musica balcanica, rock e jazz insieme che caratterizzerà questo concerto davvero imperdibile. Vi aspettiamo giovedì 20 alle ore 21.30 qui nel Teatro Politeama.